Buongiorno ragazzi, qui è comandare in video e bentornati in un nuovo video sul canale e quest'oggi siamo qui ritornati per un nuovo episodio di Fortnite salva il mondo se vi siete persi l'episodio precedente dove abbiamo fatto parte dell'obiettivo Ready to Rock, il video ve lo lascio in alto a destra nelle schede Obiettivo di oggi, concept art, concetto d'arte dobbiamo schierare scanner in una zona 46 zona desertica o Thunder Route 99 opzioni che ci danno? Beh, si può fare anche in una rescue dei survivors almeno aumentiamo ancora di più gli xp sopravvissuti per potenziarli vabbè, non ho visto Rocks pronta? E allora, via eccoci qua la c'è uno ho già trovato uno scanner aspetta, dov'è? non so ma c'è un sottoterra? eccolo là lo scanner eccoci qua eccoci qua eccoci qua c'è un glif il scan dice che è una di una serie abbiamo bisogno trovare gli altri un glif eccoci qua eccoci qua c'è un glif 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 è un po' l'ha fatto invece eccoci qua 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 Sì, sì, sì! Molto bello è il packet loss. Molto bello. Oh, need help? I'm under the track! Good job, Commander! Oh, you make it! Andate, antenna. Dobbiamo fare solo due scanner, però. Ok. Non è tutto, non è tutto a terra. E sono tornate al tito di partenza. Ok, è il momento di addentrarci all'interno della mappa. Lei c'è uno. Oh, non, 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 non! Watch out! Oh! uuuh weh That's what I'm talking about, thank you Keep up the good work Coming Here's the claw, you make it look easy Thanks They're attacking, please Survivor in danger Here's the claw, and good save There's an outro part Non è possibile che ci siano solo due scanner. Oh, qua c'è solo un altro. Ho morto l'arma. Oh, qua c'è solo un po' di bottoni. Siamo salvati! Siamo... Un altro glifo! Questo ha una cosa animale dentro! Un cosa animale? Sì, lo sai, queste cose pesche che non sono rocche? Ti chiedi a me... Si sembra come un husk! Un husk? Cosa? Dobbiamo trovare più glifi! Io non ho visto! Due minuti prima di che dovrei riuscire! Survivor in danger! Buon lavoro, Commander! Hai salvato tutti! Tutti! Hai salvato tutti! Grazie! Almeno metà dell'obiettivo l'abbiamo fatto Peccato che Ray non ha contratto un sopravvissuto Va bene E mi è morta un'altra arma Livello 134 Va bene Vabbè sarà un livello per il 60% 80%? Sì Guarda Guarda! 72,8 KXP Buono Vorrebbe anche essere delle... Una mission alert 24K Ancora di più Vabbè Abbiamo fatto 3 quinti dell'obiettivo Al prossimo obiettivo darà la seconda difesa di Canni Valley Ok? Eh, lì comincia ad essere un po' Impegnativo Vabbè, comunque Noi ci vediamo per l'obiettivo successivo Seconda difesa di Canni Valley In Granale Non è una cosa Invegnativo Per l'obiettivo Per l'obiettivo Grazie.